Due nuovi mezzi alimentati a GPL ed allestiti con tutta la strumentazione necessaria agli agenti. Si rinnova così il parco mezzi della Polizia Municipale di Arezzo. Si tratta di due nuove autovetture che si vanno ad aggiungere alle tre moto acquistate l'anno scorso e alle quali si aggiungeranno altre 10 Giulietta nel corso dell'anno. L'intenzione è quella di dotare il colpo della Polizia Municipale di autovetture, mezzi, attrezzature idonee a svolgere un servizio importante sempre in crescendo perché la Polizia Municipale, non tutti lo sanno, ma fanno veramente tantissimi servizi che i cittadini non notano in maniera diretta ma che sono molto importanti per il territorio. Questo fa parte di un pacchetto che l'amministrazione di Arezzo ha inteso mettere a disposizione della Polizia Municipale proprio perché è un'amministrazione che è sensibile al tema della sicurezza. Noi siamo ovviamente impegnati sul fronte. Anche l'altro giorno l'arresto che è stato fatto è stato determinato dal fatto che la nostra pattuglia era vicina al fatto dove è avvenuto l'increscioso episodio del bar e quindi ha permesso un intervento quasi immediato permettendoci di trarre in arresto il soggetto. Questo testimonia di una presenza, non posso neanche dire capillare perché ovviamente esagererei, però di una presenza continua nelle zone più difficili della città di Arezzo. Due nuove auto andranno a sostituire mezzi ormai usurati che però potranno trovare un'altra destinazione d'uso. Per adesso in carico all'amministrazione vedremo se è possibile in qualche modo renderli disponibili per quelle associazioni collegate comunque al Comune o che dal Comune ricevono spesso incentivi e risorse per meglio svolgere il loro servizio in modo tale che abbiano perlomeno anche una piccola panda che funziona, magari consuma tantissimo, quindi per i vigili urbani non andrebbe bene, ma magari per altri istituti forse sì.